Io in questo momento andrei proprio a introdurre lo studio e la presentazione di Stefano e questo è il secondo appuntamento di un ciclo di interventi che è nell'ambito dell'insegnamento di archeologia e dell'architettura che tengo presso la scuola di specializzazione. In beni archeologici dell'Università di Bologna e quindi questo secondo intervento sarà svolto da Stefano Bordoni che è un dottorando all'Università di Edimburgo e che si è specializzato nello studio della sua terra nativa, quindi dell'Umbria. L'ha presa un po' alla larga, devo dire, però direi che questa è una storia abbastanza comune, quindi della fuoriuscita dei cervelli più brillanti, per cui mi auguro ritornare qui, se non a Bologna, ma perché no, in altre zone italiane. Bene, io abbiamo già speso i primi minuti in piacere di chiacchiere e quindi lascerei immediatamente la parola a Stefano e alla sua lezione sulla mensio cronologia. Buonasera a tutti, ringrazio Andrea Fiorini per avermi introdotto e avermi invitato a fornirvi questa lezione su un tema a me piuttosto caro che ho ricercato negli ultimi anni, ovvero quello della mensio cronologia della Terizzi. Non so, riprendendo quello che ha appena detto Andrea, non so se io mi scrivo nel gruppo dei cervelli brillanti fuggiti all'estero, però certamente tra quelli fuggiti all'estero, quello sì, il brillante lo lascio decidere ad altri. Sì, effettivamente io mi ritrovo in questa particolare situazione geografica, come dicevo anche poc'anzi, di studiare l'Umbria, che è la mia terra d'origine, facendola a 1800 km dall'Umbria, quindi dalla Scozia, dalla fredda e umida Scozia, che oggi, dire la verità, è piuttosto assolata stranamente. Comunque sia, io passo, dopo questa brevissima introduzione, direttamente al PowerPoint, se per voi va bene, e ovviamente al termine farò delle interruzioni per chiedervi se ci sono domande nei singoli aspetti che mostrerò durante la lezione, qualora invece voleste fare delle domande finali avremo comunque del tempo per le vostre curiosità, per le vostre domande, dubbi, eccetera, eccetera. Quindi passo al PowerPoint. Scusate, adesso no. Dovevo fare questo odore. Eccoci qua. Benissimo, allora, la cronologia degli aderizi su vasta scala, nel caso dell'Umbria. Vedremo poi che cosa si intende, cosa intendiamo su vasta scala. Ho già introdotto appunto che questa ricerca è tratta dal mio dottorato all'Università di Edimburgo, che sto concludendo in questi mesi, sono nel mio periodo delle correzioni, ho appena discusso la mia tesi pochissimi giorni fa, esattamente una settimana fa, e questa è soltanto una parte di una tesi più ampia, è uno dei capitoli della mia ricerca, che appunto si occupa di analizzare come i laterizi e i prodotti in Umbria variavano nelle loro dimensioni e quali informazioni possiamo ricavare da questa variazione. Cosa possiamo farci in questo trend, sia a livello cronologico che per altri tipi di indicatori storico-economici, e quindi andremo a vedere questi aspetti durante la mia lezione, andando poi a soffermarci anche su quali sono le problematiche dell'applicazione del metodo menzio cronologico su una regione come l'Umbria, che è piuttosto particolare per degli aspetti storici e geopolitici, che vedremo piano piano. Mettiamo troppa carne al fuoco in questo momento, una cosa che io non so tra di voi in platea quanti abbiano affrontato il tema della menzio cronologia in passato, quindi farò questa carrellata che per alcuni potrà sembrare ridondante, certamente è molto molto veloce, è soltanto una piccola digressione di carattere metodologico per capire, per dare a tutti la possibilità di seguire la lezione, partendo proprio dalle basi della menzio cronologia, cioè che cosa è la menzio cronologia, come si fa, cosa serve, quali risultati può dare, quali sono le problematiche relative alla sua applicazione. E ovviamente quando parliamo di menzio cronologia in Italia, ma ormai anche altrove, dobbiamo citare una figura cardine, una grande colonna portante di questo campo di studi, che è stato Tiziano Mannoni, un professore che non ha bisogno ovviamente di introduzioni, che però ha sviluppato, ha raffinato e portato a continuamento quelle che erano delle ricerche sulla variazione delle misure dell'aterizi che erano già state emesse da altri mondi accademici, come quello per esempio francese o quello angosassone. Oggi però se facciamo la menzio cronologia facciamo riferimento a ciò che ci ha insegnato Tiziano Mannoni con la sua attività di ricerca. Andiamo a vedere in breve che cos'è la menzio cronologia, partiamo un po' dalle basi. Sarà ovviamente qualcosa di molto semplificativo e qualcuno lo troverà certamente lagunoso, però cerchiamo un attimo di dare dei punti di massima. La menzio cronologia è un metodo di datazione con validità strettamente locale, questo va sottolineato per ondevitare delle applicazioni erronee o delle forzature nella sua applicazione. Si basa questo metodo sulla variazione delle misure dell'aterizi nel corso del tempo. Quindi come si fa? Una volta nota la curva menzio cronologica di un certo territorio, sarà possibile collocarvi un dato campione dell'aterizio ricavandone la datazione probabile, ovviamente con oscillazioni, quindi non riusciremo ad arrivare certamente all'anno, ma potremo ricavarne un periodo di probabile realizzazione del nostro manufatto. Ci sono però delle problematiche, questa è la parte positivista dell'applicazione, però bisogna tenere in conto una serie di fattori che possono portare a dei problemi e vanno assolutamente considerati. In prima misura la menzio cronologia è applicabile esclusivamente a quei territori dove la produzione dell'aterizia è stata in passato soggetta a delle variazioni dimensionali stabilite da qualche autorità, possono essere autorità di carattere reggio, possono essere autorità di carattere comunale, comunque qualche istituzione deve aver emesso delle norme che poi sono state applicate dai produttori. Se queste norme non esistono è molto difficile fare della menzio cronologia, ci si può provare, si potrebbero trovare altri fenomeni relativi alla variazione delle dimensioni, però quello che conosciamo come menzio cronologia risulterebbe di difficile concretizzazione in questo contesto. Inoltre, come ho detto poco fa, la validità è strettamente locale e infatti non è possibile, è fortemente sconsigliabile applicare la curva valida per un territorio o un altro, perché non è detto che anche i territori limitrofi funzionino nella stessa maniera, abbiano avuto gli stessi trend e gli stessi valori soprattutto della produzione. È interessante anche trovare però, come vedremo nel corso della mia lezione, delle costanti tra territori limitrofi e semmai cercare di capire per quale motivo questi territori diversi, con diverse istituzioni alle spalle, applicarono sistemi di misura a sito. Ma questa cosa la vedremo strada facendo. Perché le misure variano nel corso del tempo? Qualcuno potrebbe chiedermi qual è la sfinta, almeno secondo la norma, che portava a una variazione delle misure? E ci possono essere diversi fattori all'origine di questo. Uno perché le autorità periodicamente decidevano di aggiornare un'unità di misura per vari motivi. Ciò poteva avvenire attraverso degli accordi con i produttori, cioè con le arti dei fornaciai, oppure per scelte di carattere tecnico-economico. Quindi ogni tanto c'erano degli aggiornamenti della normativa che potevano portare a un nuovo sistema di misure. Poi c'è la controparte di questo aspetto e l'attività invece dei produttori. E pescamente, diciamo così, cercavano di ridurre le dimensioni dei laterizi per poter aumentare il numero di laterizi venduti. Generalmente i prezzi dei mattoni erano venduti a numero e quindi se si riducono le dimensioni del mattone allora ci sarà bisogno di un maggior numero di laterizi per portare a complimento una data opera architettonica. Quindi questa era un po' l'attività che facevano i produttori cercando di ovviamente aggirare la legge. Quindi si ponevano in contrasto con la legge facendo così. E come fenomeno relativo a questo un altro dei fattori che possono influenzare la variazione delle misure e appunto la maggiore o minore solerzia dell'autorità comunale e locale in genere nel controllare le dimensioni. Sappiamo che in molti casi le autorità locali avevano le periodiche azioni di controllo dell'autorità comunale ma non è detto che questo controllo è stato costante nel corso del terreno. A questo punto, spiegate le basi molto riassuntive del metodo metodologico ci si potrebbe chiedere come si... non so se mi sentite, scusate. Ok, mi sentite direttamente. C'è stata una interruzione, scusate. E qualcuno potrebbe chiedermi come si costruisce una curva menzio-coronologica a questo punto? Cioè, date le basi come facciamo a fare una curva per un territorio che magari non ha mai avuto degli studi del genere? Quindi arriviamo in una regione che non è stata mai indagata precedentemente cosa facciamo? Ah, scusate. Ho spiegato un tasto sbagliato. Cosa facciamo? Dicevo. Facciamo una serie di campionature il più ampio numero di campionature possibile di superficie murarie e laterizie che abbiano una cronologia nota o perlomeno stimabile. Queste misure devono essere calcolate al millimetro. C'è un numero di campioni minimo che in letteratura viene indicato almeno dai 20 mattoni in su. Altri studi parlano di 30 mattoni, ma comunque, ecco, questo è un po' il concetto chiave. Bisogna campionare il numero maggiore di mattoni possibili da superficie murarie e laterizie che abbiano una cronologia nota. Inoltre c'è un problema relativo ai laterizi che compongono una data superficie muraria perché ci sono dei casi in cui appunto il mattone impiegato, anzi questo avviene molto spesso, non è stato prodotto specificamente per il muro dove è stato poi impiegato, ma è stato impiegato precedentemente e poi la struttura originaria è stata demolita e i mattoni sono stati recuperati altrove. Questo complica notevolmente l'applicazione della menzio cronologia perché noi dobbiamo cercare di fare in modo che quando prendiamo un campione menzio cronologico questo sia effettivamente relativo all'epoca del muro. Quindi se abbiamo dei mattoni di recupero rischieremmo di considerare per buoni dei mattoni che in realtà sono stati prodotti magari 100, 200, 300 anni prima. Questo è un problema piuttosto importante che può essere in parte corretto o almeno scoperto attraverso l'analisi dell'oscillazione dei valori all'interno di un certo campione. L'oscillazione secondo il manuale dovrebbe essere all'incirca un centimetro, un centimetro e mezzo per la lunghezza. Questo perché ovviamente nel sistema produttivo artigianale dei mattoni c'erano delle variazioni. Non dobbiamo aspettarci di trovare dei mattoni diciamo prodotti in maniera industriale o tagliati con laser. Certamente c'erano delle varie oscillazioni ma dovrebbero essere uno, abbastanza ridotte appunto tipicamente un centimetro massimo, un centimetro e mezzo è un po' la norma che ci aspettiamo di trovare. E due, questi valori dovrebbero distribuirsi secondo una curva gaussiana. Perché? Perché la curva gaussiana è quella che descrive un fenomeno relativo a un errore casuale un errore appunto dovuto al sistema produttivo artigianale che però è casuale non è relativo a un modello di riferimento. Quindi adesso vedremo un po' nel dettaglio qui sembra un po' probabilmente molto fumoso come descrizione ma lo vedremo poi nel dettaglio nelle prossime slide. Poi un'altra cosa che dobbiamo assicurarci di fare quando costruiamo una curva mezzo cronologica è che i campioni raccolti vengano da territori che hanno avuto omogeneamente una certa unità di misura. Non possiamo andare a prendere campioni relativi a più canoni mensori diversi perché altrimenti creeremmo un mostro creeremmo una curva eterogenea che non avrebbe poi un riscontro reale. Poi un altro elemento è quale parametro dimensionale prendere in considerazione generalmente si usa la lunghezza lo spessore e l'area ovvero il prodotto della lunghezza per lo spessore che sono le variabili più indicative la larghezza ci sono degli studi che ovviamente dissentono da questo ma spesso la larghezza è una variabile dipendente dalla lunghezza nei mattoni medievali perché c'è un rapporto all'incirca 1 a 2 e inoltre è più difficilmente reperibile rispetto alla lunghezza di solito i mattoni medievali con dei distingo sono applicati per il lato lungo piuttosto che di testa ma insomma questa cosa in realtà è vera fino a un certo punto e quando facciamo quindi un certo campione menso cronologico questo è un po' quello che esce fuori qualcosa ci aspettiamo di trovare abbiamo raccolto le nostre misure abbiamo misurato i nostri mattoni le abbiamo raccolte in un file excel o comunque in qualsiasi database di gestione dei dati e possiamo valutarne quindi attraverso questi grafici la densità dei valori quindi si dispongono secondo una curva gaussiana come in questo caso qui per esempio quello della della larghezza oppure abbiamo delle situazioni un pochettino differenti che sono molto comuni peraltro e non sempre significa indicano la presenza di mattoni di recupero in alcuni casi possono esserci delle varie azioni delle distribuzioni a doppia gaussiana come in questo caso qui che potrebbero indicare per esempio la provenienza di mattoni nuovi ma da due produttori diversi quindi stesso territorio stesso periodo ma leggere differenze tra un produttore e un altro magari questo produttore applicava molto bene le norme e quest'altro invece era leggermente più diciamo libero nell'applicazione della normativa vigente quindi ci sono diciamo questi grafici devono essere considerati per escludere valori molto distanti l'uno dall'altro ma bisogna essere anche un po' malleabili perché in alcuni casi come in questo che vediamo qua la variazione in realtà non è così significativa poi appunto attraverso questi valori medi che noi andiamo a calcolare dai singoli valori stabiliamo le medie facciamo l'area e quando possibile se abbiamo anche la larghezza del mattone arriviamo al volume spesso e volentieri però ci si ferma l'aria perché come ho detto poco fa la larghezza del mattone è il valore più difficilmente reperibile e a questo punto noi costruiamo tanti facciamo raccogliamo il maggior numero possibile di campioni e li andiamo a organizzare in un grafico generale che come in questo caso qui questo è tratto da una pubblicazione di Gian Antonio Chiros Castillo del 97 quindi è una pubblicazione di diversi anni fa ormai però per far capire un po' quello che si fa con questi valori medi questo è il valore dello spessore di tre zone della Toscana e come vedete c'è questo trend finale che ci permetterà poi un domani quando siamo sicuri che questo trend sia valido e abbiamo molti punti di appiglio diciamo per ricostruirlo ci permetterà di collocarvi un dato campione menzio cronologico di cronologia non nota che sarà un po' quello che vorremmo fare alla fine ottenere andare poi a collocare dei campioni di cui non conosciamo la cronologia lungo questo trend per capire più o meno la cronologia di riferimento del mattone quindi questo è un po' il risultato finale il risultato desiderabile di un'analisi menzio cronologica standard facciamo la nostra curva menzio cronologica e poi ci ricaviamo delle cronologie per strutture che invece una cronologia nota non ce l'hanno e così possiamo applichiamo magari i nostri valori la nostra curva ha dei valori menzio cronologici provenienti da strutture di cui appunto non conosciamo bene la datazione e con ovviamente dei margini delle oscillazioni cronologiche anche abbastanza notevoli possiamo stimarne la datazione questo è un esempio di una ricerca che ho fatto qualche tempo fa una casa in aggetto che si trova sempre in Umbria e come vedete i valori c'è una bella distanza tra i valori di una fase e i valori dell'altra come può sottolineare il colore appunto dei laterizi e andando poi a collocare questi valori medi all'interno della curva menzio cronologica di questo comune si ricava che all'incirca la fase superiore è di quindicesimo secolo e poi c'è stata un'aggiunta al piano inferiore di un altro volume in aggetto nel secolo successivo c'è una bella biblioteca di menzio cronologia per farla breve sul discorso teorico che se volete vi posso fornire ovviamente questa è soltanto diciamo sono i cavalli di battaglia chiamiamolo così degli anni 70 80 e i successivi aggiornamenti su cui si basa gran parte di questi studi non è una lista completa non me ne vogliate ci sono sicuramente degli importanti contributi che ho saltato ma diciamo per avere un'infarinata abbastanza onnicomprensiva sull'argomento questi possono essere dei validi riferimenti ci sono delle ricerche che stanno andando avanti e stanno portando la menzio cronologia in territori dove precedentemente non era mai stata applicata uno il mio lavoro del 2021 sull'Umbria appunto che non aveva degli studi pregressi alle spalle e un altro invece che segnalo è sull'Abruzzo Aquilano per esempio dove appunto una situazione piuttosto simile a quella dell'Umbria non c'erano i studi stanno arrivando proprio adesso quindi è un campo molto in divenire ci sono delle aree d'Italia che ancora non hanno delle curve menzio cronologiche di riferimento allora io sto ah sì scusate questa è una cosa che è stata accennata subito prima dell'inizio della nostra lezione e che su cui ho fatto una slide la menzio cronologia appunto abbiamo appena detto è qualcosa che si applica esclusivamente ai laterizi ok questo è giustissimo però ci sono stati tentativi menzio cronologici applicati anche ad altre tipologie murarie e a tipologie in pietra bisogna stare però molto attenti qui ci sono approcci menzio cronologici che sono stati applicati per esempio alle murature in tufo che hanno portato a dei significativi risultati però questo perché il tufo è un materiale molto particolare è quello che si avvicina tra i materiali diciamo naturali è quello che si avvicina di più al sistema produttivo che è valido per i mattoni spesso i blocchi in tufo erano segati secondo misure standard e quindi ovviamente ignorate questa immagine che è tratta da Google scusate si riferisce a una produzione estremamente recente e molto regolare come vedete di blocchi in tufo però ci sono delle realtà anche storiche dove la produzione dei blocchi tufacei è avvenuta secondo dei criteri piuttosto simili quindi in questi casi sono stati applicati di metodi menzio cronologici che hanno dato della validità Mannoni e il suo gruppo di ricerca provò a applicare dei criteri menzio cronologici anche alle murature in pietra però con risultati non diciamo non esattamente non particolarmente di successo ci sono comunque c'è una serie di pubblicazioni su cui si possono trovare l'applicazione di tentativi menzio cronologici alle murature in pietra che sono quelli che vi sto elencando qui ma appunto mi preme specificare in questa sede che la menzio cronologia è qualcosa di specificamente applicato all'aderizio e parlare della menzio cronologia in pietra è qualcosa che si può fare soltanto in alcuni casi e non con lo stesso grado di accuratezza nei risultati finali però possiamo discutere questo argomento anche alla fine della mia lezione se si volesse una cosa che però è emersa all'interno degli studi a seguito degli studi sviluppati tra gli anni 80 e 90 è il trend di questi trend menzio cronologici cioè come evolvevano nelle varie aree i trend menzio cronologici dei laterizi e abbiamo due grandi gruppi uno della decrescita lineare e uno della crescita lineare emergono da zone diverse d'Italia uno è valido per la Liguria per Roma per Venezia un altro invece è stato associato a degli studi relativi a Siena e Bologna e questa cosa ha dato modo diciamo di interpretare il trend secondo delle dinamiche socio-economiche cioè per quale motivo in cui le zone d'Italia presentano una curva che tra il 1100 e il 1800 decresce e altre invece in cui nello stesso periodo cresce ci sono stati dei tentativi di interpretazione di questo e che hanno portato appunto a creare un modello secondo cui nel caso di sinistra abbiamo un'egemonia dei produttori e del mercato che spingono a un decremento delle misure dei laterizi e lo fanno in totale autonomia diciamo lo fanno in una maniera svincolata da eccessivi paletti posti dalle autorità pubbliche e invece un altro modello quello che vedete a destra in cui l'egemonia è nelle mani delle istituzioni pubbliche che spingono a una crescita delle misure perché la fanno da maggiore quindi da una parte ci sono i produttori che decrescono costantemente nel corso del tempo le misure dei mattoni per aumentare i propri ricavi e dall'altro invece ci sono le istituzioni pubbliche che si oppongono fermamente a questo e riescono a mantenere i mattoni di dimensioni notevoli anzi addirittura a decrescere quindi a livello diciamo di storia economica messo queste due immagini che adesso vi faranno ridere però da una parte c'è un modello liberista diciamo teoricamente liberista e un altro modello invece in cui c'è una forte statalizzazione della produzione ovviamente lasciamo perdere ogni riferimento a Smith e a Mars perché parliamo di periodi decisamente più antichi delle loro teorie in ogni caso quello che mi preme sottolineare qui al di là della validità dei due modelli è questo corollario ovvero la monseconomia è un metodo di datazione sì ma fornisce anche dei dati o può fornirli perlomeno sull'assetto economico di un certo territorio e quindi e questo aspetto sarà quello che andrò a rimarcare più e più volte nel corso della mia lezione perché effettivamente quando si applica la mezzoconologia all'Umbria e ad altre realtà come l'Umbria forse questo è l'importanza principale più ancora della possibilità di utilizzarla a fini di datazione prima che passo direttamente a parlare del mio contesto ti chiedo se tutto è chiaro se ci sono delle domande al momento se ci sono dei dubbi se no vado continuo con la mia lezione tanto per evitare che ci siano diciamo delle cose che non sono state chiarite in partenza scusate non sento benissimo si e volevo vedere quindi per studiare le murature di pietra è meglio la cronotipologia in realtà Mannoni e tutto il campo di studi parla di analisi delle tecniche murari che possono anche avvalersi di metodi quantitativi anzi dovrebbero però diciamo non c'è una ci sono diversi valori che sono stati sottolineati dagli studi che sono relative alle dimensioni alle tecniche di finitura alla forma geometrica o meno dei blocchi alla loro regolarità alla presenza di zeppe ci sono una serie di indicatori che quindi sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo però e questo può permettere secondo la letteratura di ricavare delle tipologie che possono avere una validità di carattere cronologico quindi non è proprio né una cronotipologia né una menziconologia ma è qualcosa che si pone un po' con delle specifiche che si pone un po' in mezzo a dati si basa sia su dei parametri di carattere in merico che su dei parametri di carattere invece qualitativo non so se ho risposto alla domanda ma è un tema diciamo che meriterebbe una lezione tutta sua quindi sono costretto a rimanere molto sul generico se la farete io ci sarò quindi volentieri grazie lo chiediamo Andrea molto interessante finora veramente bello grazie mille sono contento che piaccia non so se ci sono altre domande e se no vado al contesto dell'Umbria e non mi fermo più fino alle domande finali non so se c'è qualcun altro sembra di no vado avanti allora uno dei problemi fondamentali quindi dell'applicazione della menziconologia è il contesto di riferimento come è strutturato storicamente come si strutturava sia dal punto di vista sociale che politico il territorio che noi andiamo a indagare in alcuni ambiti la menziconologia è stata applicata a delle realtà che già in epoca diciamo premoderna erano dei regni unitari o delle repubbliche di qualche natura per esempio la Repubblica di Genova è stato un ambito dove la menziconologia di fatto si è strutturata e ha trovato riscontri simili in varie aree della regione ci piacerebbe che questo si applicasse anche l'Umbria ma assolutamente no non si applica neanche lontanamente perché l'Umbria in realtà era un insieme di città e lo è stato fino al 1860 così come tutto lo Stato pontificio è stato uno Stato diciamo per modo di dire è stata più che altro una federazione di diverse città che riconoscevano in maniera anche piuttosto dialettica la supremazia di Roma e del governo appunto papale pensate che appunto l'immagine di sinistra mostra com'era l'Umbria a grandi linee nel 1791 con per esempio Gubbio che ancora faceva parte del Ducato di Urbino ma da lì a poco sarebbe stato considerato parte dell'Umbria ci sono anche altre zone che attualmente fanno parte della Toscana e delle Marche che facevano parte rispettivamente della provincia dell'Umbria che in realtà era la provincia di Spoleto e della provincia di Orvieto in ogni caso al di là della specificità dei singoli territori quello che va sottolineato è quello che vedete sulla sulla destra ancora nella prima unità dell'Ottocento vi erano 17 diversi sistemi di misura vali di nubri immaginate che caos quindi ogni centro anche di piccole dimensioni dai 3000 abitanti in su emetteva un proprio sistema di misura questo si ripercuota anche sulle unità di misura relative ai laterizi come potete capire e per esempio questa schermata vi fa vedere tutte le varie cittadine o città che sono state citate qui che vengono indicate nella mappa hanno un sistema di misura dell'atrizio documentato dalle fonti scritte quindi abbiamo una notevole quantità di diversi canoni che venivano applicati nei singoli centri come vi ho detto precedentemente la menzoconologia è un metodo di datazione specificamente locale non possiamo considerare la curva menzoconologica di un territorio per un altro questo significa che purtroppo dobbiamo ricostruire un trend menzoconologico per ciascuno di questi canoni mensori e come capite la cosa si fa estremamente complicata rispetto a un contesto invece di carattere parastatale unitario quindi inoltre se si va a ridurre se si va diciamo a scomporre la quantità di edifici databili del territorio si va anche a ridurre il dataset disponibile per ciascuno di questi canoni di riferimento quindi avremo alcune realtà meglio documentate dove si può ricostruire per grandi linee il trend menzoconologico ma altre invece mal documentate dove avremo pochissimi campioni con cui avere qualche informazione di carattere menzoconologico questo è una limitazione intrinseca ineluttabile non possiamo fare nulla al riguardo però appunto è molto importante tenere questa cosa in conto onde evitare poi di malcomprendere quello che vi mostrerò da qui a poco facciamo un salto indietro io oggi parlerò della menzoconologia dei laterizi a partire dal 1200 fino al 1800 ma volevo un attimo fare una piccola digressione su quello che sappiamo della produzione dei mattoni in Umbria a partire dall'età romana l'Umbria è stata in età romana una grandissima produttrice di mattoni specialmente in questa area che corrisponde alla valle del Tevere centro meridionale che vedete circondata da questa ellisse rossa è una zona per cui si conoscono diversi impianti produttivi ma e se ne conosce anche la proprietà appunto relativa a famiglie senatorie o imperiali romane ma appunto anche per questo per il tipo di proprietà che riguardava producevano specificamente per il mercato romano quindi la diffusione dei laterizi da questi impianti produttivi era molto più diciamo focalizzata su Roma che sul resto dell'Umbria non a caso la quantità di strutture in laterizio o interamente in laterizio direi in Umbria di età romana è piuttosto limitata c'è questa schermata che vedete questi campioni sulla sinistra che di fatto descrivono la gran parte di quello che abbiamo disponibile non abbiamo molti campioni più di questi diciamo quindi c'era una grande discrepanza tra gli impianti produttivi e la distribuzione in ambito regionale passando poi questa è una carrellata velocissima sono tutti argomenti su cui ci si potrebbe spendere di fatto una lezione a parte quindi sarò velocissimo passando al mondo tardantico alto medievale e anche del primo basso medioevo c'è di fatto nelle fonti un silenzio totale sulla presenza di laterizi sulla produzione di laterizi scusate con dei distinguo molto molto rari in un paio di siti questo è uno parliamo dell'abbazia di Petroia vicino a città di Castello ci sono indicazioni di possibili produzioni specializzate in epoca precedente in 1200 che è un po' come vedremo tra poco il momento di riesplosione della produzione dell'atterizia medievale ci sono queste lastre che su base stilistica sono state datate intorno all'undicesimo secolo e sono lastre laterizie quindi è possibile che come documentato altrove in Italia anche prima dell'esplosione del boom edilizio basso medievale ci siano state in cantieri di carattere monastico o cantieri comunque elitari di ambito religioso delle produzioni anche se ovviamente sporadiche relative soltanto al cantiere e senza continuità quello che sappiamo però è che a un certo punto appunto come ho detto poco fa intorno al 1200 1250 abbiamo una grande esplosione del mondo del mattone il mattone si rifà la sua comparsa e come vedete questo è il trend della quantità dei laterizi nel corso del tempo estratto da 640 murature che ho studiato da tutta la regione come vedete c'è una linea più in basso dove non ci sono laterizi 0% laterizi la linea più in alto invece è il 100% come vedete ci sono dei valori in epoca romana che di strutture interamente laterizio c'è un fenomeno di recupero del laterizio che in epoca successiva che tende comunque a scemare nel corso del tempo e una ripresa significativa soltanto a partire dall'incirca al 1200 con un notevole incremento soltanto intorno al XIV-XV secolo dove compaiono come vedete qui sopra anche campioni interamente laterizio oltre a murature miste quindi il dato diciamo delle murature regionali sembra confermarci quello che tra poco vedremo emergere dalle fonti scritte con un espluato della produzione dell'aterizia in epoca piuttosto tarda rispetto al panorama nazionale che invece vede la diffusione del mattone generalmente intorno al XII secolo con alcune aree del paese nel nord che in realtà hanno produzioni significative già nell'undicesimo in Umbria invece sembra che la produzione del mattone sia qualcosa che possiamo rintracciare in maniera abbastanza stabile soltanto dal 200 e chi ci racconta questa storia qui ce la racconta il caso di Perugia è una città la città più importante della regione lo era già in questo periodo è una città anche piuttosto ben documentata in cui abbiamo una serie di informazioni su scritte che ci mostrano quello che sembra l'avvio della produzione in realtà è un fenomeno piuttosto veloce che avviene circa nel raggio di 25 anni nell'arco di una generazione abbiamo sia la prima menzione della produzione di mattoni nel territorio comunale sia l'introduzione di canoni mensori specifici e anche la costituzione di associazione dei produttori ovvero di arti e vediamo un attimo dei punti salienti di questo fenomeno che saranno molto interessanti anche per quello che andremo a dire dopo la cosa più interessante di tutte è quello che avviene nel 1260 viene chiamato un artigiano da Siena con lo specifico intento di realizzare i canoni mensori dei mattoni per il comune cioè significa che nel 1260 Perugia introduce un proprio sistema di misura che non ha precedentemente e lo fa attraverso un magistrato senese questo scusate un artigiano senese quindi questa cosa è piuttosto interessante perché abbiamo la provenienza di questa persona e vedremo come influisce diciamo è molto interessante su quello che stiamo per dire inoltre c'è la presenza già nel 1277 di una serie di cittadini e satelliti che hanno una produzione di mattoni e che approvvigionano Perugia appunto per il fabbisogno di laterizi nel 1279 quindi due anni dopo abbiamo la prima associazione che viene costituita e riconosciuta dal comune a cui viene imposto di utilizzare le unità di misura emesse dal comune stesso e per la prima volta si ha menzione di una produzione di laterizi in ambito periurbano subito fuori alla porta sud di Perugia Ho appena citato il caso del maestro senese questa è una cosa davvero interessante perché il campione menziconologico più antico in assoluto che abbiamo dall'Umbria non è frutto di una mia ricerca ma è stato campionato durante il crollo del 1997 viene dalle volte della Basilica di San Francesco ad Assisi il campione più antico perché la sua datazione stimata più probabile è tra il 1230 e il 1260 circa con delle oscillazioni diciamo siamo sicuri che la volta stava all'intorno al 1280 quindi più o meno questo è il periodo di riferimento e questa ricerca appunto a seguito del crollo del 1997 ha campionato dei laterizi e ha dato dei valori davvero interessanti che io sono riuscito a confrontare poi con la produzione senese del periodo e non ho messo qui i valori perché li avevo in un altro file ma vi assicuro che sono assolutamente identici con un margine di errori di 2 mm qualcosa proprio di minimo e questo per carità può essere anche un discorso casuale qualcuno potrebbe dirmi come fai a stabilire che non sia una casualità beh c'è un altro elemento interessante a riguardo e cioè il tipo di laterizio che viene impiegato come avevo detto precedentemente il mattone medievale generalmente è un rapporto tra la larghezza e la lunghezza di 1 a 2 generalmente nei refonti si parla infatti di mezzo piede per un piede e questo effettivamente è riscontrato come vedete in questa grafica la grandissima parte dei campioni che sono riusciti a raccogliere si collocano più o meno su questo rapporto qui con delle differenze che sarebbe lungo spiegare ma comunque sia si raccolgono in un range che va da 0,47 a 0,51 c'è soltanto un valore che si distingue nettamente da questo mondo qui e cioè quello proprio delle volte di San Francesco d'Assisi che però rispondono al canone senese anche da questo punto di vista allora abbiamo un mattone che compare ad Assisi per la prima volta o è tra i primissimi diciamo utilizzati nella regione che guarda caso adotta le stesse unità di misura di Siena in un mondo in cui sappiamo che le unità di misura erano state introdotte quello dell'Umbria un mondo dove appunto le unità di misura sono state introdotte da un maestro senese non mi sembra più un caso ed è anche un canone diciamo dimensionale che poi non ha continuità con il resto della produzione dell'atterizia per come la conosciamo in Umbria quindi sembrerebbe effettivamente confermarsi che le primissime unità di misura applicate al mattone in Umbria in realtà siano state mutuate da Siena e questo poi non ha avuto continuità per una evoluzione delle misure dei mattoni dovuta a fenomeni prettamente regionali oppure a una mancata continuità tra la prima produzione e quella più stabile a partire dal 300 e magari l'importazione di canoni da altre regioni questa è una domanda a cui io non posso ancora rispondere però c'è questo interessante fenomeno di importazione quello che sembra emergere è un'importazione del modello direttamente da Siena senza la creazione in origine di un qualcosa di totalmente innovativo o diverso per quanto riguarda Perugia abbiamo poi tutta una serie di impianti che si dispongono nel territorio abbiamo già detto che già nel 200 c'erano diversi villaggi o insediamenti con fornaci attestate in realtà il numero di fornaci di centri produttori aumenterà esponenzialmente e una delle documentazioni più interessanti su questo argomento viene dalla costruzione della Rocca Paolina la Rocca Paolina oggi ne potete vedere dei resti non esiste più nelle sue dimensioni mastodontiche originari era una grandissima fortezza costruita da Papa Paolo III nel 1542 45 pensate che questa struttura quasi interamente in mattoni ha richiesto la produzione di 3 milioni di laterizi nel raggio di 3 anni abbiamo delle ottime documentazioni scritte su questo argomento che ci mostrano la provenienza e il numero di produttori che vanno poi ad approvvigionare il cantiere e nella gran parte dei casi sono produttori che si dispongono nell'area immediatamente periurbana quindi subito fuori dalla città ma abbiamo anche una serie di produttori come vedete in questa grafica che vengono anche da 20 km di distanza quindi immaginate in 3 anni questo cantiere ha assorbito la produzione nel raggio di 20 km pensate che occorre furono necessari 50 produttori diversi per soddisfare le necessità della costruzione quindi diciamo produzioni davvero importanti però facciamo di nuovo un passo indietro per capire come la produzione adrizza si sviluppa sarò brevissimo qui altrimenti rischiamo di dilungarci troppo ma nel 300 abbiamo delle attestazioni documentali che ci testimoniano l'espansione del fenomeno della produzione dell'aterizia e della legiferazione inerente nelle comunità della Valle Umbra quindi comunità a distanza di 20-30 km da Perugia cosa interessante l'emissione di leggi inerenti in questo aspetto avviene negli stessi anni in città che si trovano a distanze piuttosto ridotte l'uno dall'altro quindi abbiamo Spoleto che nel 1847 emette la sua legislazione vedremo tra poco che lo fa anche a Sisi nel 1349 e fuorigno che lo fa nel 1350 la legge più interessante di tutte è quella di Spoleto che è molto dettagliata e farà un po' sembra che faccia un po' da riferimento poi per le leggi emesse in zona successivamente e parla di queste tre attività diverse uno stabilisce delle misure specifiche per i mattoni lunghi un piede larghi mezzo piede come abbiamo visto poco fa e spessi tre dita stabilisce poi l'emissione la produzione da parte del comune di forme che siano marchiate con il cicillo comunale e vengono distribuite a produttori che poi le devono rispettare le devono utilizzare per produrre l'atterizzi e inoltre a conferma di qual è il ruolo diciamo molto forte dei comuni nel facilitare la produzione dell'atterizia il loro diciamo il ruolo di supervisione della produzione dell'atterizia il comune di Spoleto si occupa anche di comprare un terreno dove installare una fornace che sappiamo esattamente dove si trovava subito fuori anche in questo caso come Perugia nel 1279 subito fuori l'area urbana e lo attrezzi con una condotta idrica ovvero con acquedotto una condotta che porti l'acqua perché sapete che per produrre i mattoni serve l'argilla il combustibile ma anche tanta acqua per il processo di purificazione di foggiatura e qual è il riscontro poi pragmatico dell'estensione della produzione dell'atterizia e delle leggi relative alla produzione dell'atterizia in Umbria sono queste cose qua sono il punto delle forme dei modani o in Umbria nelle documentazioni Umbre sono spesso definite scede che appunto descrivono le forme dell'atterizia stabiliti per legge venivano esposti in aree pubbliche possono e potevano essere messe nella facciata del palazzo comunale per esempio in altri casi la chiesa più importante il duomo della cittadina l'unica cosa che purtroppo spesso e volentieri nella grandissima parte dei casi non abbiamo è la datazione di questi canoni mensori perché come avevo detto anche in precedenza i comuni spesso li aggiornavano quindi non sappiamo in molti casi a che età a che periodo facciano riferimento queste misure standard l'esempio più interessante di tutti è quello che proviene da Sisi per l'interessantissima iscrizione che corre sia nella parte superiore che quella inferiore dell'epigrafe e che ci parla appunto sia della datazione 1349 quindi molto antica rispetto al contesto delle produzioni laterizie umbre ma soprattutto ci adombra ci dà un'informazione interessante su qual è il tipo di mattone che viene esposto qui nella letteratura troverete che molto spesso si fa riferimento a queste forme come quelle delle casseforme cioè come quelle del mattone prima che venga cotto in realtà qui l'epigrafo è sempre piuttosto chiara nel dirci che queste forme di riferimento si riferiscono in realtà al mattone cotto al mattone nella sua fase a seguito del processo di cottura e quindi su questi aspetti bisogna stare un po' attenti insomma se facciamo una carrellata generale della regione abbiamo un po' tavola sinottica abbiamo Perugia come primo centro appunto Perugia è dintorni come primo centro di attestazione della produzione dell'aterizia abbiamo un'estensione nel corso del 300 ad aree limitrofe dall'Orvietano alle comunità della Valle Umbria come vi ho detto in precedenza e poi soltanto nel corso del 4 e del 500 un'estensione ulteriore ad aree periferiche e soprattutto alla catena appenninica come nel caso di Norcia dove comunque le produzioni dell'aterizie rimarranno piuttosto sporadiche piuttosto limitate soprattutto data la grande abbondanza della pietra mentre invece città come Perugia che hanno avuto un grandissimo fabbisogno di materiali costruttivi per il proprio sviluppo pur non avendo delle cave nei dintorni hanno mostrato una notevole quantità di fabbisogno l'aterizio quindi anche diciamo la geologia del territorio influisce poi su questo tipo di sviluppi e adesso finalmente dopo che ho fatto una carrellata introduttiva lunghissima possiamo parlare un attimo dei trend che vediamo ovviamente lo tratteremo questo argomento in maniera molto generale onde non tediarvi troppo e soltanto andando a verificare quegli elementi che sembrano essere di particolare di particolare interesse un particolare risalto soprattutto ci sono dei trend comuni tra città diverse qui ho messo città relativamente ben documentate ma molto diverse l'uno dall'altro abbiamo Perugia come vedete che è la città come ho detto più grande della regione ma abbiamo anche Montefalco che si trova a 40 km è un piccolissimo centro quindi parliamo di insediamenti che hanno diciamo delle caratteristiche molto differenti l'uno dall'altro allo stesso tempo però mostrano degli interessanti punti in comune punti di contatto in primis il fatto che le misure più piccole qui ci riferiamo all'area del mattone le misure più ridotte sono quelle anche più antiche generalmente quindi c'è un inizio della produzione con misure piuttosto ridotte a cui segue in tutti i casi una crescita che però si arresta a seconda dei casi tra 1500 e 1600 quindi all'interno da qualche parte durante il sedicesimo o massimo inizi del XVII secolo in alcuni casi anche piuttosto marcato ma allo stesso tempo nello stesso periodo di declino che abbiamo appena citato c'è anche la comparsa di misure totalmente diverse che in alcuni contesti sembrano anche comparire in precedenza ma sono piuttosto ricorrenti soprattutto tra il XVII e il XIX secolo in alcuni casi appunto come vedete qui Montefalco e Perugia la gran parte delle misure raccolte in questo periodo fa parte di questo gruppo totalmente differente rispetto a quello diciamo di dimensioni più basse quindi abbiamo questa sorta di discrasia che compare nel corso dell'età moderna e adesso cercheremo di capire perché quindi se vediamo se raccogliamo tutti i valori menzio cronologici dalla regione esce fuori qualcosa del genere abbiamo nella parte più alta la lunghezza nella parte più bassa lo spessore ci sono queste diciamo può essere piuttosto confusionaria ma sono appunto valori che provengono da tutta la regione quindi vanno a raccogliere insieme canoni menzio cronologici diversi questa è una tavola specificamente pensata per cercare di capire se ci sono delle variabili ricorrenti dei trend ricorrenti all'interno dello spazio regionale e vediamo che ci sono ci sono degli elementi interessanti come ho detto in precedenza si conferma il fatto che le misure più antiche sono anche le più piccole sia per quanto riguarda la lunghezza che per quanto riguarda lo spessore si conferma un addensamento dei valori nel 500 vedete che c'è una grande densità di valori in questo periodo e il 500 è anche il periodo che precede uno sdoppiamento quello che sembra essere uno sdoppiamento della curva lo cogliamo molto bene qui vedete che c'è il trend in rosso ma il trend in questa fase tra il 600 e l'800 e il 900 scusate non attraversa in questa fase alcun valore concreto perché in realtà ci sono due gruppi distanti distinti scusate uno più piccolo uno più grande quindi sembra esserci se uno vada al trend un grande incremento ma in realtà ci sono in realtà c'è un trend che si sdoppia da una parte c'è un decremento delle misure di quello che sembrerebbe essere un tipo diciamo il mattone singolo e dall'altra parte c'è la comparsa del mattone doppio adesso che possiamo verificare molto bene anche dal dato dell'area che raccoglie la variazione dei due valori quindi come si conferma come abbiamo visto poco fa abbiamo un incremento una sostanziale stagnazione nel corso del 500 e poi la comparsa di un mondo totalmente diverso che da una parte punta all'inflazione dei valori dall'altra presenta delle misure completamente distanti quindi adesso come andiamo a interpretare questo dato perché se vogliamo utilizzare la menzio cronologia a fini storico economici bisogna capire come questa cosa si vada a verificare prima di tutto è qualcosa di totalmente casuale ho effettuato delle analisi statistiche che non ho messo qui per brevità perché altrimenti avremmo fatto sera che dimostrano con chiarezza che questo trend non è casuale i valori sono concentrati a sufficienza per dire che c'è un modello di riferimento non c'è una distribuzione dei valori random una cosa che possiamo utilizzare attraverso la menzio cronologia a fini cronologici anche se la applichiamo a livello regionale in questo caso per esempio è la presenza di alcuni valori che si concentrano in determinati periodi ma soprattutto l'assenza di alcuni valori in dati periodi quindi diciamo si potrebbe fare in teoria una menzio cronologia di carattere probabilistico e per esclusione questo è qualcosa diciamo per poter utilizzare l'approccio regionale l'approccio su vasta scala come abbiamo detto nel titolo della lezione ma in realtà qui andremo a concentrarci sull'interpretazione di carattere socio-economico che emerge dal trend abbiamo visto che non è casuale adesso capiamo perché si è sviluppato così e prima abbiamo visto che nelle varie regioni italiane emergono due gruppi quello della crescita e quello della decrescita l'Umbria sembra collocarsi in una sorta di terza via come abbiamo visto poco fa c'è una crescita che si protrae tra il 1300 e il 1500 una stagnazione diciamo un periodo di assestamento delle misure e poi da una parte una decrescita dei valori del mattone che potremmo definire singolo e la comparsa del mattone doppio che è tutto da interpretare perché non ha grandi attestazioni nel mondo scritto non ha spiegazioni diciamo nelle fonti scritte adesso cerchiamo di capire con tutto questo come potrebbe essersi venuto a creare sulla base delle teorie sviluppate in altre regioni questo trend potrebbe spiegarsi intanto a livello generico con la prevalenza delle istituzioni pubbliche nella crescita dei valori iniziale una crisi di qualche natura tra il 1500 e il 1600 e un nuovo assetto completamente diverso in cui in qualche modo i produttori ebbero la meglio presero in mano alla situazione anche se bisogna capire per quale motivo improvvisamente compaia il mattone doppio una delle possibilità intanto una delle possibili spiegazioni per capire per quale motivo le varie realtà della regione pure mettendo canoni di misura propri andarono sostanzialmente ad uniformarsi specialmente in alcuni periodi come il 500 potrebbe essere potrebbe risiedere nell'esistenza dell'import export cioè dell'esportazione o importazione dell'aterizi all'interno dello spazio regionale la prima domanda che mi piace potrebbe fare sì molto bello però esiste un'attestazione di questa dinamica in Umbria assolutamente sì abbiamo già nel 1342 Perugia che è in fase del pieno boom edilizio abolisce l'attestazione sui materiali edilizzi quindi dà dimostrazione di aver bisogno di importare materiali costruttivi da fuori perché ha una crescente necessità di materiali per l'edificazione dell'espansione urbana nel 1386 un piccolissimo comune che si trova nell'angolo nord orientale dell'Umbria fa una cosa che apparentemente ha poco senso bandisce l'esportazione degli aderizi del proprio territorio allo stesso tempo però applica le misure della vicina Fossato di Vigo che è una cittadina che si trova dall'altro lato dell'Appennino in territorio marchigiano quindi per la prima volta abbiamo l'attestazione di un comune che applica le misure di un territorio limitrofo non sviluppa delle misure proprie anche se teoricamente è dipendente da Perugia applica quelle di Fossato di Fabriano quindi complica un po' le cose e allo stesso tempo bandisce l'esportazione degli aderizi questo però significa che se si fa la legge per bandire le esportazioni c'è un fenomeno di esportazioni altrimenti non si sarebbe fatta la legge altre attestazioni di esportazioni che vengono legiferate compaiono nel XV secolo in Valle Umbra abbiamo Bevagna che nel 500 decide di applicare le misure messe da Perugia anche in questo caso abbiamo una comunità piccola che imita o applica le misure di un altro territorio per Bevagna siamo sicuri che questo avviene per cercare di favorire le esportazioni verso Perugia e poi abbiamo delle crisi sull'esportazione dell'aderizia durante il 500 in alcune comunità della Valle Umbra che le bandiscono in ogni caso se uno mi chiede ci sono attestazioni dell'esportazione dell'aderizia la risposta è assolutamente sì e quindi questa cosa può giustificare un fenomeno di parziale omologazione delle unità di misura tra i vari territori inoltre come vedete nella schermata di destra abbiamo Perugia che rispetto al territorio attuale del comune aveva una sfera di influenza sia politica che economica decisamente più ampia in realtà questa linea è pure abbastanza riduttiva perché Perugia aveva dei rapporti diciamo di carattere una supremazia di carattere politico anche verso alcune comunità che attualmente si trovano in Toscana ma anche all'interno della Valle Umbra quindi la presenza di una città egemone che aveva una sua ampia area di influenza potrebbe aver favoreggiato anche questo processo di omologazione e inoltre i valori ci mostrano un fenomeno interessante cioè un fenomeno di parziale di protoindustrializzazione della produzione andando ad analizzare la deviazione standard dei valori dei vari campioni cioè quanto oscillano i valori dei vari mattoni utilizzati nei diversi campioni si ricava che questa oscillazione decresce tra il basso medioevo e la prima età moderna per poi di nuovo risalire durante l'età moderna tra il seicento e l'ottocento e di nuovo decrescere in quella che possiamo ben identificare come l'epoca industriale quindi c'è una protoindustrializzazione seguita da una deindustrializzazione e di nuovo l'industrializzazione vera e propria e questa cosa sembra confermare un evento critico che si sviluppa nel corso dell'età moderna qui in età moderna intorno al 1600 è avvenuto certamente qualcosa di decisamente impattante sulla produzione e cerchiamo di capire che uno dei temi che emergono dall'analisi menzionologica regionale è la capacità di grip di controllo dei comuni nei confronti del loro territorio allora quanto questi comuni questi comuni legiferavano ovviamente non soltanto per l'area urbana ma teoricamente per tutto il territorio da loro controllato siamo sicuri che riuscivano a controllarlo proprio tutto ci sono attestazioni materiali della presenza della capacità dei comuni effettiva di essere sovrani diciamo dei produttori di posti anche in zone molto periferiche qui la domanda è ancora aperta c'è un interessante caso che nel corso del mio survey ho verificato che per esempio la similianza delle misure tra questa chiesa che si chiama Madonna della Sbarra a Panicale scusate ho messo Paciano ma in realtà Panicale è un insediamento di circa 30 km da Perugia quindi a una notevole distanza rispetto al centro e se la confrontiamo con i valori degli aderizi della scalinata della chiesa di Sant'Domenico dentro il centro storico di Perugia realizzata nei stessi anni abbiamo una sostanziale sovrapposizione cioè ci sono per carità delle differenze di un millimetro ma mi sembra abbastanza accettabile diciamo per un mondo di produzioni artigianali e quindi una risposta del genere potrebbe essere affermativa allo stesso tempo però notizia proprio di queste ore notizie in diretta sto effettuando delle ricerche su alcuni edifici della cittadina di Città della Pieve all'epoca controllata da Perugia che stanno mostrando in qualche maniera invece dei valori sui generis quindi la risposta è un nì ci sono alcune realtà che effettivamente sembrano essere sottoposte al controllo centrale ma bisogna stare attenti perché alcuni centri produttivi o alcuni periodi potrebbero essere usciti dalla sfera di controllo dei comuni quindi la legge potrebbe essere stata applicata in maniera parziale o non applicata per niente sono domande che bisogna porsi per capire l'applicabilità poi di una certa curva menzoeconologica a tutto il territorio del comune e abbiamo avuto modo di affrontare il tema della crisi della produzione della direzione da moderna ci sono una serie di segnali delle fonti scritte che ci permettono di interpretare questa cosa almeno possono dare delle chiavi di lettura per capire che è successo effettivamente tra il 500 e il 600 perché la curva subisce tutte quelle variazioni si inverte crea un mattone che precedentemente non c'era crea questo mattone doppio che le fonti scritte neanche ci permettono di comprendere nel corso del 500 e del 600 abbiamo alcune fonti scritte che effettivamente ci dicono che c'è qualcosa che non va o sta cambiando ci sono segnali per esempio su problemi di approvvigionamento del combustibile alcune autorità comunali si impegnano a cercare di fornire produttori del combustibile per le proprie fornaci perché evidentemente c'è una carestia di questo tipo di materiali che è imprescindibile per il funzionamento di una fornace ci sono delle inchieste che vengono emesse per esempio da Perugia Perugia svolge un'inchiesta sulle proprie fornaci durante la seconda metà del 500 e i commissari di questa inchiesta scoprono una variazione media del 16% quindi c'era una sostanziale riduzione del prodotto delle fornaci rispetto alla norma e poi ci sono delle misure protezionistiche sull'esportazione che ci fanno capire che c'è qualcosa che non va nella produzione di laterizia ci sono delle lamentele sulla qualità dei laterizi che appunto risulta scadente e soprattutto c'è un grande silenzio delle fonti su ulteriori modifiche dei sistemi di misura prima tra il 300 e il 400 abbiamo visto e anche nel 500 a dire la verità abbiamo visto una serie di autorità comunali che emettevano propri sistemi di misura li aggiornavano avevano una normativa che in maniera piuttosto serrata si occupava di controllare le misure dei laterizi a partire dal 600 tutto ciò scompare e c'è un totale silenzio delle fonti ci sono ancora delle attività di controllo ma non c'è più un aggiornamento della normativa questa cosa potrebbe anche significare che la normativa andava bene così non c'era nessun bisogno di aggiornarla oppure no oppure c'è effettivamente una si comincia a perdere il controllo sulla produzione e queste cose possono avere dei riscontri con la realtà storica che conosciamo in questo momento il periodo tra il 500 e il 600 è un periodo molto particolare in Italia centrale e soprattutto in Umbria abbiamo la crisi dei comuni che avviene per l'immissione del diretto controllo pontificio tra il 400 e il 500 soprattutto arrivano questi governatori mandati da Roma che di fatto esautorano le autorità comunali dal diretto controllo delle cittadine c'è un primo processo diciamo di unificazione che non si concretizzerà mai pienamente delle varie comunità dell'Umbria inoltre i comuni che precedentemente erano nelle mani della borghessia quindi dei cedi di carattere mercantile o artigianale i comuni diventano di fatto degli uffici periferici del governo papale sotto l'egemonia delle aristocrazie quindi di fatto i produttori che precedentemente avevano una grande voce in capitolo attraverso le proprie arti all'interno della macchina comunale di fatto perdono qualsiasi rappresentanza ormai c'è l'aristocrazia che comanda ed è un'aristocrazia che secondo alcune ricerche svolte su altri settori di carattere artigianale si disinteressa completamente della supervisione della coordinazione delle produzioni quindi questa potrebbe essere una spiegazione per capire perché a un certo punto le misure si alterino in maniera quasi spiegabile inoltre questo potrebbe essere una spiegazione per la mancanza di combustibile ci sono delle fonti che ci dimostrano una vera e propria sovrapproduzione e sfruttamento eccessivo delle risorse specialmente boschive nel XVI secolo in poche parole si arriva a una crisi perché non c'è più nulla da bruciare si è bruciato tutto e infine c'è un discorso più di carattere generale che è una crisi economica lunghissima che lo Stato Pontificio subisce soprattutto nelle sue aree periferiche Roma non fa testo perché funziona in maniera completamente diversa c'è una crisi economica che in Umbria è durissima e abbiamo porta anche a dei cambiamenti demografici molto abbondanti che si accompagna anche all'aumento della tassazione che va verso Roma quindi c'è questo fenomeno diciamo di perdita di competitività dei mercati regionali che si accompagna anche a una perdita di valori economici che vanno verso invece la capitale dove gli investimenti ed i lizi in questo periodo invece sono altissimi quindi queste potrebbero essere delle motivazioni per capire che cosa è successo in questo periodo e bisogna trovare una giustificazione anche al mattone doppio è stata una lunga frode come potrebbe essere oppure ha delle motivazioni tecniche intanto ci sono pochissime fonti che ce ne parlino la fonte più antica in assoluto è del 1589 viene citato per la prima volta in Umbria in una fonte scritta e questo coincide quasi esattamente con il dato archeologico quindi sappiamo che dovrebbe comparire negli ultimi anni del 500 verrà attestato anche a Roma però almeno 150 anni dopo quindi non è detto neanche che ci sia un rapporto una contaminazione tra l'Umbria e il mercato romano che bisognerebbe comunque giustificare potrebbero essere due fenomeni totalmente disgiunti e poi abbiamo delle attestazioni scritte che si intensificano all'Ottocento e ci danno la prova che i mattoni doppi venivano ancora prodotti nella alla metà dell'Ottocento di fatto allora quale potrebbero essere le spiegazioni che si riagganciano alla crisi diciamo al trend inverso invertito del periodo tra il 600 e il 700 allora il mattone doppio potrebbe essere dovuto a questioni di carattere tecnico economico potrebbe poteva favorire per esempio i tempi complessivi di costruzione perché avere un mattone più grande significa che l'assemblaggio dei mattoni diciamo avviene più velocemente si costruisce più velocemente c'è un minor uso di malta allo stesso tempo però ci sono delle problematiche relative alla messa in opera perché pesa di più o al trasporto per esempio quindi questa cosa è una possibilità oppure e questa è un'interpretazione che da alcune fonti che non ho messo qui sta emergendo in queste settimane è possibile che in realtà sia stata una grande furbata scusate il termine dei produttori produrre un multiplo del mattone nominale del mattone singolo ma se si guarda quindi produrre questo mattone che vale teoricamente due mattoni ma se si va a vedere il volume in realtà non corrisponde a due mattoni non è un mattone doppio ma è circa 1,7 mattoni e quindi potrebbe essere stata questa un escamotage per poter in realtà frodare gli acquirenti questa è un'interpretazione ancora in fieri che sta emergendo attraverso alcuni dati delle fonti scritte che stanno comparendo in questo periodo altre cose che ci devono che stanno emergendo dalla mia ricerca e che dovranno essere approfondite in futuro sono relative alla capacità appunto di grip di cui ho parlato poco fa dei comuni verso siti periferici specialmente in età moderna c'è un caso che ho analizzato che questo castello si trova nei dintorni di Gubbio che ha diciamo restituito una notevole serie di fasi costruttive anche ben datate e alcune di queste presentano delle murature e l'averizio beh la cosa interessante è che i valori che questo questo insediamento mostra sono totalmente sui generis rispetto al resto della produzione Umbra andiamo da lunghezze per esempio come vedete nella grafica da 25 fino a 37 cm non c'è niente di tutto ciò nel resto della regione generalmente in Umbria i mattoni si pongono hanno lunghezze tra i 27 e i 33 cm al massimo quindi questo sito emerge per le particolarità per le oscillazioni delle misure anche a distanze piuttosto ravvicinate a livello cronologico quindi sembra avere dei mattoni che non hanno paragoni nel resto della regione sarà allora interessante vedere che c'è qui una fornace documentata tra il 1741 e il 1808 allora viene il dubbio viene il seguente dubbio non è che il proprietario di questo castello anche il proprietario della fornace sfuggisse in qualche maniera alle alle normative vigenti a dubbio nel periodo è possibile che le produzioni private per autoconsumo siano totalmente sfuggite o parzialmente sfuggite alla produzione alla legiferazione dei laterizi emessa dai comuni questo è un tema che complicherebbe e certamente complica già vi dico l'applicazione della menzoecologia ed è qualcosa che dobbiamo tenere in conto non è detto appunto che i comuni siano riusciti ad avere la propria supremazia applicata anche su delle produzioni strettamente locali e non destinata ad essere poi vendute o commercializzate questo è un qualcosa che andrà certamente ricercato in futuro e che già sembra emergere dalle documentazioni un'ultima cosa spero poi che ci saranno delle domande in merito qualcuno diciamo mostrerà interesse verso questa cosa è un tema che sto sviluppando in questo periodo che in realtà non sono il primo ovviamente a sviluppare ma è stato già messo in pratica in altri territori soprattutto nel nord Italia è la possibilità di applicare la menzoecologia anche ai mattoni crudi in Umbria abbiamo alcune rarissime strutture superstiti che presentano laterizi non cotti laterizi impiegati soltanto dopo il processo di essiccatura e qui il problema è capire se queste produzioni erano strettamente locali destinate in questo caso all'autoconsumo fatte magari dagli stessi proprietari dell'edificio che veniva costruito oppure se c'è un rapporto tra le fornaci operanti in questi territori e il mattone crudo allora dobbiamo trovare per poter iniziare un processo che estenda la menzoecologia anche a questo campo qui dobbiamo trovare delle documentazioni che ci dicano se il mattone crudo veniva effettivamente prodotto e commercializzato dalle fornaci e dopo alcune peripezie notizia di pochi giorni fa esce fuori questa bellissima fonte scritta che sono riuscito a trovare in un archivio in Umbria siamo nel 1589 e abbiamo l'attestazione scritta che ci dice che i fornaciai e ciascuno di essi sia obbligato a vendere e dare lo lavorio cioè il lavoro di ogni sorte quale ci sia la fornace cotto o crudo quindi abbiamo l'attestazione che i fornaciai almeno in questo caso qui commercializzavano ma anche mattoni crudi anche prodotti non cotti io ho fatto una grande carrellata oggi ho messo un sacco di benzina sul fuoco adesso mi aspetto le vostre domande spero che le cose siano state chiare sono in realtà come vedete ancora in fase di elaborazione da parte da me stesso quindi sono cose che io in alcuni casi vi metto in maniera molto preliminare ancora però sono curioso di sapere le vostre opinioni rimmerito e aspetto quindi i vostri requisiti vi lascio anche il mio contatto per volessimo restare in contatto anche dopo e quindi attendo le vostre domande allora grazie Stefano veramente stimolante è una di quelle presentazioni sicuramente che apre che apre l'interesse su questa disciplina in genere gli interventi sono fatti spingono molto sulla parte metodologica e magari la parte storica viene tralasciata invece in questo caso direi che hai sfruttato hai fatto vedere come si sfrutta il dato dimensionale per fare storia per trovare quindi aggiungere qualcosa in più a quello che si sapeva su quello che si sapeva su determinati territori quindi sicuramente come ti avranno già detto i tuoi revisori hai fatto un lavoro interessante del fatto ci sarebbero un sacco di cose da chiederti per esempio e poi lascio la parola a Elena e appunto il primo aspetto riguarda la metodologia di acquisizione dei dati spesso accade ci hai fatto vedere delle cose belle magari qualcuno vuole provare quindi quali sono magari i tool quali sono gli strumenti o i metodi che ritieni fondamentali quando si va a raccogliere il dato e l'altra cosa riguarda alla fine della diciamo dell'acquisizione quali sono invece gli strumenti utili per trattare il dato per elaborare il dato e quindi magari ci sono delle tecniche in più che utilizzi rispetto al tasto Excel o cose insibili quindi diciamo visto che la parte storica è ampiamente trattata magari si potrebbe sapere qualcosa di più invece sul metodo di raccolta e di elaborazione dei dati magari sottolineando le cose più particolari che so che hai fatto ovviamente per quello che tu lo chiedi sì il discorso della questione di attenzione dei dati io utilizzo un sistema piuttosto ibrido cioè ove possibile faccio misurazioni dirette accompagnate poi però anche a misurazioni di carattere fotogrammetrico ovviamente sono diciamo tutti e due aspetti che possono portare a degli errori sia di carattere strumentale che di carattere umano c'è un po' una diatriba sul fatto su quanto sia affidabile l'utilizzazione della fotogrammetria per avere misurazioni piuttosto precise precise al millimetro io ho eseguito delle misure di controllo e ci sono delle variazioni nel risultato della misurazione diretta diciamo con ritella metrica o con fotogrammetria ma c'è la differenza è nel reggio di un millimetro quindi parliamo di variazioni piuttosto ridotte quando applicate ovviamente quando ad alta risoluzione ed applicate a degli specifici elementi costruttivi ovvero a una serie di mattoni se andiamo poi ad estendere il campo a un'intera facciata abbiamo dei valori diciamo dei rangi di errore nettamente superiori inoltre c'è il discorso che anche utilizzando una rotella metrica un metro una riga qualsiasi cosa diciamo di pragmatico che si può tenere in mano comunque si avremo degli errori perché andrando a confron già se confrontiamo diversi metri diversi righelli metrici non ci sarà nessun righello metrico uguale all'altro ci saranno delle piccole variazioni magari di un millimetro magari di due ma già ci sono degli errori strumentali intrinseci lì inoltre c'è l'occhio umano che deve capire dove inizia dove finisce il mattone e se chiediamo a 10 persone diverse questa cosa avremo 10 almeno 5 interpretazioni differenti quindi io nell'acquisizione dei dati utilizzo queste due metodologie che mi aiutano ad essere il più corretto possibile e allo stesso tempo mi aiutano ad approcciare dei casi dove è difficile andare manualmente ad apporre il nostro righello perché magari i nostri mattoni i mattoni più interessanti o di maggior conservazione si trovano a 3 metri di altezza io sono piuttosto bassino non ci arrivo soprattutto difficilmente mi arrampico su scalandrini o roba del genere quindi questo già il fatto di poter andare a analizzare dei campioni che si trovano ad altezze non elevatissime ma comunque superiori a quella umana è un vantaggio ovviamente quando è possibile integro le due cose insieme quando riesco e questo sull'acquisizione dei dati poi non so se ho risposto compiutamente o se ci sono altre curiosità per il trattamento dei dati io faccio i miei fogli excel quindi faccio diciamo il livello di stoccaggio del dato numerico utilizzo un foglio excel standard poi nell'elaborazione invece dei dati di dati che ho acquisito utilizzo un programma che si chiama RStudio che credo in Italia sia meglio conosciuto come R ed è una software di statistica che appunto permette di elaborare con una serie di pacchetti applicativi in maniera diciamo nettamente superiore ad excel stesso i trend che emergono da questi da queste campionature non so se ha risposto o se perfetto Elena allora sostanzialmente due domande una di metodo di uso della monso cronologia nel senso che a me è recentemente capitato durante una consulenza di confrontarmi con una collega e lei di solito applica la mensa cronologia con il modulo che se ho capito bene prevede praticamente di misurare quanti mattoni ci stanno dentro una striscia larga un metro io invece applico il metodo descritto molto bene da Anna Boato nel suo manualetto l'archeologia dell'architettura e quindi misuro i singoli mattoni sostanzialmente volevo chiedere qual è il metodo migliore e più affidabile e la seconda domanda invece è più tra virgolette storica nel senso che io tempo fa un paio d'anni fa ho fatto uno studio molto molto amatoriale sulle tavole delle misure di alcune città proprio a scopo divulgativo e quindi ho esaminato anche la tavola delle misure le tavole delle misure delle città di Castello soprattutto quella dei laterizi e se non mi ricordo male è proprio di fine 500 mi sembra 1594 e relativa ai mattoni crudi quindi volevo chiedere se questa tavola delle misure può testimoniare sia la vendita di laterizi crudi sia avere un diciamo un significato nella crisi del 600 cioè diciamo tra il 500 e il 600 come una testimone della necessità di di un comune di ribadire quali erano le misure e poi ultimissima cosa mi scuso per la mia ignoranza cos'è il mattone doppio ah benissimo sì forse non ho spiegato bene questa cosa allora tre domande interessantissime allora nel per quanto riguarda la prima io misuro i mattoni singoli cioè faccio due cose diverse in realtà per la menzio cronologia analizzo i mattoni singolarmente quindi vado a campionare le misure di quelli generalmente più conservati perché come capite bene all'interno della muratura che ha avuto 700 500 anni di storia ci sarà una serie di laterizi che per varie ragioni non sono diagnostici non aiutano essendo parziali essendo stati danneggiati erosi eccetera eccetera non daranno dei risultati ottimali oppure specialmente quando vengono parzialmente ricoperti da calce da malta se non riesco ad apprezzare il valore dell'aterizio nella sua interezza o almeno al meglio del possibile escludo quel valore perché altrimenti mi porterebbe a delle conclusioni errate darebbe dei risultati falsati per quanto riguarda invece l'analisi delle tecniche murarie ma come ho detto nella schermata relativa parliamo di due mondi che hanno dei punti in contatto ma anche tante differenze mi occupo anche di stabilire la quantità di mila delizio all'interno di un campione standard da due per due però ecco sono due strade che possono essere complementari ma hanno anche diciamo sono distinte poi per quanto riguarda la misura di Castello di Città di Castello 1594 è la più recente diciamo tra le varie di cronologia nota o stimabile quindi è una cosa molto tarda lì si parla di laterizi crudi ma io non credo che possa essere utilizzata come un'attestazione della commercializzazione dell'aterizio crudo semplicemente chi ha specificato nell'iscrizione quel contenuto ha voluto dire che le misure che sono riprodotte nella tavola si riferiscono a come l'aterizio dovrebbe essere prima della fase di cottura quindi è un'attestazione diciamo manualistica del fatto che in gran parte dei casi questi modani o scede si riferiscono all'aterizio prima di essere cotto e sarebbe interessante sapere se in realtà intendessero anche che quell'aterizio crudo poteva essere venduto così senza cottura ma purtroppo temo che sarebbe forzare un po' diciamo leggere un po' troppo da quello che l'iscrizione ci consente per quanto riguarda il mattone doppio è questo l'aterizio stranissimo diciamo piuttosto sui generis che compare in Umbria sia dal dato archeologico sia da quello documentale intorno alla fine del Cinquecento e diventa proprio di largo uso soprattutto nel Seicento quindi è un mattone che viene definito doppio nelle fonti quindi veniva considerato come pari a due mattoni ma se uno va a fare le analisi dimensionologiche scopre che in realtà non era mai pari a due mattoni è sempre circa un mattone virgola 7 un mattone virgola 8 della serie che generalmente il mattone singolo standard in Umbria è intorno a i 5 cm di spessore il doppio invece il sole in un caso raggiunge 9 cm quindi praticamente erano due mattoni uno sopra l'altro cioè praticamente è un mattone più grande che è un multiplo del mattone un mattone che viene prodotto con uno spessore molto più ampio rispetto al mattone singolo cioè l'esatto opposto della mezzana da solaio esattamente esattamente grazie niente non so se ci sono altre domande non so forse posso chiedere una cosa io a sto punto dato che c'è questo silenzio spettrale se avete se ci sono nei vostri territori da cui venite delle strutture mattoni crudi e se avete mai considerato di analizzarle prima che scompaiono e si sciolgano letteralmente è un po' il problema che ho io in questo periodo la corsa contro il tempo prima che il mattone crudo diventi fango torni fango non so se è una cosa che qualcuno vuole prendere la parola mi farebbe molto piacere e parlarne ma Stefano io ti confermo almeno per la romagna non ho sentito ho letto articoli su questo poi chiaramente se cerchi questo dato magari lo trovi ma effettivamente anche l'idea di poter spingere su questa pista mi pare anche nuova mi pare qualcosa non troppo battuta rispetto alla solita edilizia in terizio o in piedra ci sono dei lavori su questo aspetto qua in Liguria nell'Astigiano cioè lavori di Pagella Pittaluga parlo di diciamo non sono moltissimi i contributi su questo aspetto e alcuni territori sembrano mostrare l'impossibilità di applicare la menzio cronologia mentre altri invece sono diciamo danno hanno dato un parere favorevole attraverso le prime analisi io sto cercando di vedere di verificare se questa cosa in Umbria può applicarsi e sembrerebbe che nelle pochissime strutture ahimè abbiamo una ne sono rimaste davvero poche sembra che ci sia qualche qualche speranza di applicare la menzio cronologia ed è per cui diciamo ho cercato di affrontare oggi un po' a vasto spettro i vari temi che emergono dalla mia ricerca cercando di capire anche se c'è tra chi mi ha ascoltato qualcuno che ha mai considerato di battere queste strade nella propria attività o appunto se sentendole oggi mi viene in mente magari potrei farlo anche io in futuro questo sarebbe bello bene c'è qualcuno che vuole fare l'ultima domanda anche perché noi a breve dobbiamo lasciare l'aula quindi siamo alla fine di questo incontro bene allora direi che noi possiamo sicuramente salutarci domani ricordo che diciamo che ringraziamo ancora Stefano per la qualità del suo intervento grazie a voi per avermi ascoltato grazie e ricordo che domani ci sarà l'ultimo incontro sempre alle 15 questa volta il tema sarà l'archeologia dell'architettura a Roma le prime sperimentazioni e come si è voluta nel tempo benissimo un saluto a tutti a presto grazie ancora arrivederci a presto Grazie a tutti.